Appassionati di pallavolo, benvenuti nel numero 58 di PVO, Piemonte Volley Online, il settimanale multimediale nato per farvi vivere le emozioni del volley piemontese e nazionale. In questo numero le finali under 19 maschili e i risultati dei campionati dalla Serie D alla Serie A1. Non mancano le ultime news regionali, mentre per il nostro focus sulle società storiche piemontesi l'approfondimento del mondo dell'Alpino Meneghetti. Inoltre, come sempre, il punto sul Club Piemonte. Ad atlete e atleti nati dal 6 al 12 marzo, i nostri più cari auguri di buon compleanno. Piemonte Volley Online, il volley vive qui.